Una convenzione tra il Comune di Pavia e l'Istituto di Cura Città di Pavia, polo formativo di medicina generale per tirocini di medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Un intervento di aiuto nei confronti delle persone che si trovano in una situazione di fragilità socio-sanitaria che comporta necessariamente una collaborazione tra gli operatori sociali e quelli sanitari. Dottor Maurizio D'Acco, convenzione tra Comune di Pavia e l'Istituto di Cura Città di Pavia. Si parla di medicina generale e di un'interazione tra campo sanitario e campo sociale. Sì, abbiamo la scuola di medicina generale che a Pavia viene effettuata presso la Clinica Città di Pavia che nel secondo anno di corso ha pensato di iniziare una collaborazione con il Comune di Pavia per mostrare a quelli che saranno i futuri medici di famiglia la realtà presente in ambito sociale. In quanto pensiamo che chi farà il medico di famiglia nei prossimi anni sempre di più si troverà a confrontarsi con il disagio, con l'integrazione con altre culture, con l'anziano, con il disabile. E quindi abbiamo pensato che è importante che i nostri tirocinanti conoscano queste realtà. Ecco, dieci gli allievi che partecipano all'iniziativa e cosa faranno concretamente? Allora, li abbiamo suddivisi in gruppi perché a questo periodo dovevano frequentare l'ASL di Pavia quindi cinque frequenteranno l'ASL di Pavia e cinque frequenteranno uno dei vari servizi presenti qui in Comune. Quindi ci sarà chi seguirà l'area disabili, chi seguirà l'area anziani, chi seguirà l'area dell'integrazione e così via. Assessore dei servizi sociali Sandro Assanelli, con partecipazione tra sanità e sociale sempre con l'obiettivo di essere sempre più vicini al cittadino in difficoltà. È un ottimo modo di aiutare le persone, di sentirsi vicini e di tranquillizzare tutte le persone che hanno dei problemi, sia per quanto riguarda i minori, sia per gli adulti, i disabili, le persone che devono integrarsi oppure anche degli anziani. Mettere insieme i servizi sociali e il medico che si aiutino reciprocamente con delle informazioni e ciascuno nel proprio ambito dà una mano a questa persona, secondo me è rassicurante prima di tutto per il paziente, per la famiglia che non si sente di sola. E poi c'è un disegno unico e quindi con un unico obiettivo che è quello di far star meglio la persona. Noi pensiamo che questo sia un ottimo modo di affrontare alcune tematiche sociali e mediche in modo che ci sia questo continuo scambio di informazioni e poi si tireranno le somme di questo, almeno prima con l'esperienza. All'inizio mi sembra che le cose stiano andando abbastanza bene e se tutto procederà per il meglio, il 20 dicembre quando tireremo le somme si riproporrà con la regione Lombardia, con l'ora di ripetere, con l'ora di questo esperimento perché noi lo riteniamo non quello veramente fondamentale. Penso che sia il primo in quello esperimento, non quello in regione e speriamo che ne seguono altri.